amici telesmuntiani bentornati in questo super dissing a umberto miletto a umberto miletto inizia così sfogandomi contro questo pagliaccio amici umberto miletto c'è un bravo ragazzo con quella faccia da angelo che da anni ha invaso il web è stato uno dei primi youtuber a parlare di sport della palestra su youtube ha fatto successo è ancora fra i primi sul web che fa video dove spiega esercizi con la sua lavagnetta va spiegando metodi di allenamento eccetera eccetera fino ad ora ci siamo arrivati fino ad ora ci siamo arrivati una persona che aiuta la gente a far vedere come si fanno gli esercizi a spiegare i vari metodi per esempio il metodo bulgolo che cosa ne penso del metodo e spiega i vari metodi però ultimamente ultimamente il pagliaccio cosa sta facendo per fare soldi e ingannare la gente naturalmente lui sta il primo nei motori di ricerca l'agenda becca l'agenda becca perché otto mangi sta minestra o ti butti dalla finestra ragazzi non ha scelta la gente spuntano quei video di miletto spuntano guido di qualche altro pagliaccio che paga le le promozioni su youtube vendono i servizi e la gente cosa fa sa soltanto le buffonate che dicono sti pagliacci qui e umberto miletto che cosa se ne è uscito ultimamente con le challenge la challenge petto di 30 giorni alleniamo il petto 30 giorni ma fino a lì non me ne fotto un gazz anche se è sbagliato fare queste cose tipo allenare lo stesso muscolo tutti i giorni per 30 giorni ultimamente dato che avrà visto i nostri video umberto biletto hai visto i nostri video e che è arrivato adesso per primo qui sul canale innanzitutto si deve iscrivere innanzitutto si deve iscrivere e poi e poi deve andare a vedere qui sul mio canale youtube i video che ho fatto in questi ultimi mesi in questi ultimi mesi ho parlato io del metodo invertito che farà aumentare due centimetri in un mese due centimetri in un mese il braccio ragazzi con il metodo mio che io ragazzi sono arm wrestler io sono specialista dell'allenamento delle braccia e chi meglio può darvi l'aiuto di me che ho a sua volta esperienza anche nel mondo del bodybuilding nel mondo dell'atletica leggera nel mondo del calisthenics ho esperienza nel bodybuilding nella palestra ragazzi da vent'anni che mi alleno in tutte le palestre in giro per il mondo conosciuto un sacco di personal trainer mi sono confrontato con tantissimi anche campioni e ultimamente ragazzi nel arm wrestling nel braccio di ferro sono in contatto con campioni del calibro di devon larrat todd aschi e tantissimi altri anche bortolato con ermes gasparini ragazzi e allora che vi voglio dire io che umberto miletto sta solo potendo i soldi alla gente e allenandoli male andiamo subito a vedere cosa dice miletto e andremo nel dettaglio a ad realizzare punto per punto il video di sto pagliaccio umberto miletto il più secco del web ragazzi io perché sono senza maglietta adesso ve lo dico perché sono senza maglietta perché io offro il servizio ragazzi offro il servizio ragazzi della vendita dell'immagine del corpo vi dimostro che ho il bicipite ragazzi 45 e l'ho migliorato in questi ultimi mesi in questi due centimetri e con il metodo invertito dopo anni e anni di prove ho provato tutti i metodi tutti i metodi e adesso che ho scoperto il metodo devo essere io il primo in italia sono io il primo in italia a promuoverlo però purtroppo siccome spuntano gli altri prima nei motori di ricerca che cosa accade miletto tu buffone ha fatto il video l'altro ieri dove dice due centimetri in un mese con il mio metodo pagate qui in descrizione cosa andremo ora ad analizzare il metodo di questo buffone io vendo il servizio e sto senza maglietta questi buffoni qui vendono il servizio dell'allenamento del corpo eccetera eccetera però stanno con le magliettine fino a qui e non fanno vedere neppure i loro miglioramenti andiamo subito al video di questo pagliaccio milletto che ragazzi è un buffone è un buffone passiamo sulla pagina di questo buffone di questo buffone clown della fitness italia come lui ce ne sono tantissimi ragazzi ce ne sono tantissimi non è che ci sono lui allora guardate un po che cosa ha pubblicato ieri guardiamolo insieme ragazzi buongiorno e bentornati qua sui miei canali do il via ufficialmente alla challenge delle super braccia 3 delle super cazzone delle super cazzone giorni 30 workout differenti per massacrare le vostre braccia e andare a fare un lavoro incredibile che vi porterà un guadagno ipertrofico sul braccio di almeno due centimetri facciamo allora ragazzi tutti i giorni alleni le braccia tutti i giorni le braccia già questo è sbagliatissimo in primis perché come voi sapete lo sanno tutti anche i ragazzini neofiti che iniziano a fare palestra il recupero muscolare avviene entro 48 ore e addirittura a volte in base come doveva massacrare il muscolo ci vogliono più di 48 ore per recuperare totalmente il muscolo che hai allenato e questo buffone qui invece ti fa allenare il muscolo ogni 24 ore guardate un po continuiamo con la buffonata di scorreggia fritta di uniletto cosa per cui tanti tecnici mi prenderanno per pazzo ma no io ti prendo per buffone buffone pagliaccio clown del web e scorreggia fritta non è che sei pazzo sei un semi truffatore ragazzi un semi truffatore andiamo ogni giorno bicipiti e trecipiti ogni giorno per 30 giorni consecutivi vi hanno detto che non si possono allenare non vi hanno detto gran pagliaccio gran pagliaccio non si possono allenare per te ci vedete i motivi anche per il motivo che ti vai a infiammare i tendini del braccio allenando tutti i giorni sì sì adesso andremo a vedere l'altro video che ho visto che c'è poi in descrizione c'è un altro video ragazzi perché poi c'è l'altro video dove lui invoglia coloro i quali già hanno cliccato su questo video qui vanno nell'altro per poi portarli direttamente ai soldi che vai a ingassare questo figlio di indrocchia ragazzi guardiamo un po' guardiamo un po' oltre al fatto che se vanno a infiammare i muscoli guardiamo poi vi dico anche che cosa va a accadere che cosa va a accadere dopo oltre al fatto che perderai dei soldi del tuo contem bank oltre al settimane il gruppo muscolare balle vi dimostrerò che facendo questo lavoro extra scioccante per i vostri muscoli andrete a fare un guadagno ipertrofico mai fatto prima su questo distretto muscolare tutto è stato progettato per darvi il meglio vi lascio qua sotto comunque il link per buffone buffone è stato progettato ma perché non dai le dimostrazioni fai così col braccio fai vedere una foto di qualcuno che hai fatto migliorare non lo so perché tu non lo puoi non lo puoi mostrare stai sempre con le magliette fino al collo qui il collo vita ragazzi ma guardate qui tutto lo scopo per ingannare la gente a cliccare e poi farla andare nell'altro video che adesso andremo noi ragazzi a strongare ad analizzare curiosare quello che è la challenge per le super braccia dedicato ovviamente solo per quelli che si vogliono allenare seriamente e spingersi oltre i propri limiti no oltre ad andare all'ospedale questo deve dire buffone la più incredibile challenge per sfidare il tuo corpo e guadagnare oltre due centimetri di braccia acquista il tuo biglietto alla challenge super braccia inizio challenge domenica 5 ascolta attentamente il video sottostante tutte le informazioni sulla challenge le modalità di partecipazione sono indicate nel video addirittura spiega pure se il video non parte in automatico clicca sul play solo guardando il video potrei capire come ragazzi proprio gli spiega agli imbecilli che seguono questo sito web che se il video non parte automatico deve non cliccare sul player cioè ragazzi ma veramente proprio cose da pazzi invece qua devo cambiare dire la più incredibile challenge per guadagnare io 49.000 euro in un solo giorno perché ragazzi se acquistano questa challenge mille persone mille persone ragazzi poi fa la presa per il culo prima era 49 euro però se tu clicchi qui adesso è 79 euro è tutta una presa per il culo perché ragazzi se stanno come funzionano questo tipo di pubblicità ingannevole paghi 79 euro mille persone comprano questa challenge cioè significa che comprano i video che ha realizzato lui i video degli allenamenti che devono fare tutti i giorni cioè lui ha creato dei video 30 video ogni video è un giorno di allenamento la gente acquista questi video ragazzi in maniera senza che lui va a seguire le persone singola persona per singola persona gli fa fare un allenamento uguale per tutti uguale per tutti a 79 euro incontro a mille polli sono 79 mila euro questo è lo scopo di umberto miletto tutto marketing tutta fuffa ingresso completo 30 video di allenamento con 30 workout di lezioni video di 20 minuti il manuale pdf challenge super braccia con spiegati 30 workout selezioni per richiedere la sottolinea accesso a vita ai video per poter ripetere accesso a vita ai video ma i video ragazzi li vedi una volta vai poi per un mese all'ospedale perché ci avrai il braccio infiammato e finisce lì e finisce lì cioè non vuoi continuare poi fa vedere la foto lui ok c'è è secchissimo è secchissimo ragazzi fa vedere sta foto che forse l'avrà fatta 4 5 anni fa ragazzi è una foto fatta 4 4 5 anni fa possibilmente anche in photoshop perché una persona credibile amici una persona credibile deve stare tutto l'anno come faccio io senza maglietta nei video e farsi vedere senza maglietta senza maglietta nei video gran bagliaccio figlio d'introcchia no neppure umberto miletta si fa vedere senza maglietta si fa perché ha vergogna di far vedere quelle braccia secche di 35 centimetri di sconferenza ragazzi qua c'è un braccio di 45 centimetri andiamo ora a vedere l'altro video di questo buffone ragazzi e ragazze ci siamo a grandissima richiesta do il via e poi non capisco una cosa ragazzi mette le scritte in italiano i sottotitoli in italiano un'altra buffonata da ignorante capra che poi rovina anche vabbè rovina l'immagine forse anche meglio che ci metta le scritte perché la sua faccia è una faccia da culo però il problema qual è che che senso ha se io sto ascoltando il video deve leggere in italiano ma metti i sottotitoli in inglese in spagnolo se vuoi fare qualcosa di utile per il tuo pubblico magari a ciuffare pubblico di altre nazioni ma che c'entra super braccia 30 giorni dedicato alla costruzione all'allenamento extra dei vostri bicipiti e tricipiti dopo la challenge di successo ah bicipiti e tricipiti un'altra stronzata miletta miletta la mano l'avambraccio che sono importanti per fare aumentare il centimetro in più i centimetri in più il volume in più nelle braccia non li nomina non li nomina il gran pagliaccio questo è un non è esperto poi soprattutto di braccio ma può essere in totale un personal trainer lo mette in una palestra segue le persone a fare gli esercizi stop stop ma poi per quanto riguarda le schede di allenamento non è in grado neppure di fare una scheda di allenamento ragazzi non ha realizzato nella sua vita i risultati lui stesso nel suo fisico come può dare delle schede ad altre persone e poi questa scheda qui ragazzi è veramente una scheda che verrebbe bocciata in tutti i corsi di scienze motorie perché la vedo un professore di scienze motorie anche tecnicamente tecnicamente ragazzi la legge dice tutti i giorni alle braccia oltre al fatto che non si ha il recupero muscolare che avrà ragazzi sicuramente una tendinite o problemi ai tendini soprattutto al branchio radiale perché ragazzi ho fatto le prove ho fatto le prove io non parlo senza le prove ragazzi io ho provato ad allenare le braccia tutti i giorni amici ho avuto solo stato dieci giorni con dei dolori al al tendine branchio radiale e poi anche negli avambracci amici amici diffidate di questo pagliaccio condividete il mio video condividete il mio video questo qui condividete e fatevi seguire da me fatevi seguire da me andiamo avanti con questo buffone continua continua a dire stronzate ogni 30 e super addominali mi avete chiesto di continuare con questa challenge perché vi danno motivazione vi danno determinazione no no ti danno denaro a te ti danno denaro a te perché hai capito il segreto di come prendere per il culo questi pagliacci che ti seguono vi danno ulteriori spunti per riuscire a migliorare sono durissime perché sono durissime ovvio sono andato a finire tutto all'ospedale e i tuoi clienti ma no all'ospedale no ma con la infiammazione al braccio insieme perché anch'io come avete visto faccio tutti i workout con voi guardate il sorrisino di una persona falsa il sorrisino di una persona falsa il vostro virtual coach vi alleno vi motivo e ogni giorno vi do un workout differente quindi guarda brevemente tutto questo video se vuoi capire a chi adatta questa challenge perché ti consiglio questa challenge l'obiettivo di questa challenge è come fare per iscriverti allora ovviamente se ti iscriverai in questo momento beneficerai di tantissimi bonus e del super prezzo ma ho deciso di creare questa challenge dedicata alle super braccia per cercare di mostrare il super prezzo ragazzi continua a prendere il culo alla gente fa un prezzo di 140 euro se lo inventa lui ragazzi tutto inventato e poi mette 79 euro per prendere il culo illudere otticamente la gente purtroppo c'è gente che becca questi trucchi becca grazie pure poteva fare anche 10 euro ma mi stai inventato 79 euro perché è una media ragazzi che la gente può pagare perché se tu vai a mettere 100 euro non ti paga se tu vai a mettere 50 euro è poco 75 79 con il 9 è un ragazzi tutto studiato per fare soldi così per togliere i soldi dalle tasche da quei quattro buffoni e pagliacci che seguono questo qui fatti come in 30 giorni andando a scioccare i tuoi muscoli con che poi ragazzi dico buffoni e pagliacci ma forse la gente che lo segue non ha colpa ragazzi la gente che lo segue non ha colpa perché purtroppo la gente che lo segue non conosce ad altri non conosce ad altri vede solo lui vede qualcun altro vede che sono quasi tutti gli stessi e allora cosa fa? becca becca l'unica cosa che si può fare è svegliare queste persone come fare? condividere questo video dappertutto anche sotto i suoi video su facebook sotto i suoi commenti invaderlo 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 dei commenti ragazzi con il video questo qui che gli ho fatto io ogni giorno un workout differente per le braccia andrai in queste 4 settimane ad incrementare nettamente il volume del tuo braccio sia che tu sia diciamo agli inizi del tuo percorso d'allenamento sia che tu sia già uno molto allenato e magari notavi che il livello del tuo braccio bene o male è stabile stavi quasi stallando grazie a questa challenge riuscirai a dare nuova enfasi di crescita ai tuoi bicipiti e ai tuoi tricipiti prova le braccia e la mano ripeto non ci fa nulla non le alleni perché ragazzi non hanno importanza la presa non ha importanza questo qui ti deve rimanere secco questo qui ti deve rimanere secco però l'importante è che ti aumenta il bicipite e il tricipite ragazzi quello che dico io per migliorare le braccia devi migliorare prima l'avambraccio noi nel metodo infertito per le braccia che ho ideato io l'obiettivo principale è la mano l'avambraccio l'avambraccio allenare l'avambraccio e poi naturalmente dopo subito dopo l'allenamento degli avambracci allenare le braccia e migliorare ragazzi ma allenarli allenarli con il metodo invertito non tutti i giorni non tutti i giorni io nel mio metodo ragazzi seguo le persone singole persone non sono come questo buffone qui che fa dei video e poi li vende a tutti li vende a tutti qualsiasi persona deve seguire quel video là ragazzi non è così ogni persona va dato su per giù il metodo è uguale per tutti ma ci sono delle varianti che cambiano di persona in persona e poi un'altra cosa questo buffone qui che fa allenare tutti i giorni le braccia ai suoi clienti ma non si rende conto che poi anche queste persone qui devono fare i dorsali si allenano anche in palestra faranno gli allenamenti del petto dei dorsali si allenano le gambe cioè amici e come cavolo fanno con le infiammazioni con i muscoli del braccio rischiano di farsi male magari quando fanno le trazioni o quando fanno i dorsali avendo il bicipite sempre sotto sotto pressione cioè nel senso sempre infiammato perché il muscolo ragazzi deve recuperare gli deve dare almeno 48 ore allora il nostro metodo varia dai 3 allenamenti a settimana per le braccia ai 2 ai 2 amici ma allenare il braccio in maniera completa tricipite bicipite mano completa con tutto l'avambraccio quando dico mano è completa ragazzi la mano è completa anche le dita noi alleniamo naturalmente per coloro i quali fanno il metodo invertito per migliorare la loro forma fisica migliorare il braccio eccetera eccetera alcuni allenamenti che facciamo noi arm wrestlers per la mano non glieli metto però gli allenamenti fondamentali per migliorare l'avambraccio completo supinazione pronazione cupping cioè questo qua il carlo di polso questo di qui cioè ragazzi questi tipi di allenamenti vanno inseriti per migliorare ulteriormente l'avambraccio che ti spingerà sempre di più a migliorare il bicipite per credere qua rivoluzioniamo un po' il mondo dell'allenamento mi piace fare la pripista mi piace trovare nuove strategie per allenare le persone e ho notato che questi 30 giorni così massacranti fatti uno dopo l'altro ben progettati allenamenti non troppo lunghi 20 minuti di workout allora mi fai tu vedere mi fai vedere giustamente le migliorerie che hai avuto tu nel braccio con questo metodo ma se io ti vedo sempre più secco di prima ragazzi ma questo qui lo vedo da 20 anni qua sul web non so da 15 anni che ha sempre lo stesso fisico perciò come avevo visto questi miglioramenti i miglioramenti mi letto devi dire la verità li stai avendo sul tuo conto in banca con questo metodo della stronzata dei 30 giorni hai iniziato con il petto i dorsali ora ti sei messo a fare quello con i bicipiti perché stai vedendo che ti stavo mandando il conto in banca come incontri ragazzi io dico mille persone se incontra due mille persone sono 150.000 euro ragazzi 79 euro per mille quando fa 79 per mille sono 79.000 euro ne trova sono quasi 160.000 euro il doppio 80 80.000 euro per due 160 più o meno 1.000 euro ragazzi è vero con questo metodo sta guadagnando tanti soldi e poi pensate ma mille persone non le trova le può trovare tanto se ne frega quello se poi fra quelle mille persone ragazzi poi la cosa che lui non dice è come si misura il braccio perché i polli non sanno che in un mese possono avere miglioramenti ma anche nello stesso giorno possono avere miglioramenti perché tu quando vai in pumping quando vai in pumping il braccio si aumenta di due centimetri perciò che cosa accade magari lo misura prima poi lo misura dopo lo misura dopo in pumping e dice ah ho migliorato due centimetri no tu devi misurare sempre il braccio da da fermo in riposo in riposo devi misurare il braccio il primo mese il primo giorno poi dopo un mese lo misuri sempre da riposo molto densi di lavoro apportano grandissimi miglioramenti sui muscoli che andiamo a colpire quindi in questa challenge l'obiettivo è colpire le tue braccia ti garantisco in questi 30 giorni che andrai a incrementare il volume poi ragazzi anche l'arrat stesso l'arrat stesso che ho avuto io modo di parlare ho fatto anche l'intervista andate su armwrestling show l'altro mio canale c'è l'intervista completa in inglese con l'arrat con Todd Aschie campioni mondiali di greci di ferro ragazzi sono ragazzi stelle stelle del web gli influencer più potenti l'arrat è l'influencer più in gamba al mondo del nostro sport con un canale youtube di 440.000 più e più di seguitori amici questi qui cosa dicono addirittura l'arrat allena le braccia 4 volte a settimana un campione mondiale ragazzi Todd Aschie allena pure dalle 3 alle 4 volte le braccia però poi in totale fanno tanti allenamenti però le braccia ragazzi non le puoi allenare tutti i giorni perché poi ci sono anche gli altri esercizi da fare i dorsali la panca se vuoi allenare perché devi allenare tutto il corpo non vuoi fare solo un mese di braccia come dice Miletto perché se Miletto dice che devi fare un mese di braccia è sempre scorretto è sempre scorretto sempre ti vai a lesionare le braccia non vanno in recupero sempre però è ovvio che Miletto non sta dicendo di allenare solo le braccia poi la gente oltre a questa challenge si farà i suoi allenamenti di pettorale i suoi allenamenti di torsione alla sbarra di trazione alla lat machine con le braccia infiammate in più dopo l'allenamento della challenge poi dovrai andare a caricare pure lo sforzo della lat machine cioè lo sforzo degli altri esercizi tu pensa un po' dei tuoi bicipiti e dei tuoi tricipiti stare a te al termine della challenge misurare e vedere quanti centimetri hai preso ci saranno ragazzi che prenderanno un centimetro altri due altri tre e persino quattro centimetri quattro centimetri allora quattro centimetri ma perché non va a vedere il braccio a lui che ce l'aveva stacchissimo dopo questa challenge gli avrà aumentato a lui almeno quattro centimetri dovrebbe mostrare orgoglioso i suoi risultati come faccio io ragazzi come faccio io dovrebbe mostrare i suoi risultati orgogliosamente sul web togliendosi sta cazzo di maglietta ma non lo fa perché non ha avuto i risultati perché questa è una challenge super cazzola challenge che gli sta facendo aumentare il conto in banca mentre potrebbe succedere perché le braccia rispondono benissimo a questi allenamenti ad alta densità provare per credere non avrei mai fatto nulla di simile perché nessun coach si è mai azzardato a provare un qualcosa del genere e io non solo l'ho messo su carta l'ho fatto tutto e ti posso dimostrare che al termine di questi 30 giorni andrei a migliorare come non hai mai migliorato su questo distretto allora lui dice che l'ha fatto sulla carta però poi poi non è che dice io ho migliorato e vi mostro no dice andrete a migliorare ragazzi ha una faccia tosta vi prende per il culo faccia a faccia cioè invece di io l'ho provato su carta non solo l'ho provato su carta vi dimostro che l'andrete a migliorare voi no non solo l'ho provato su carta l'ho provato pure su di me stesso ragazzi vi mostro i risultati guardate il bicipite com'era prima guardate com'è adesso anche se dice ragazzi com'era prima basta misurarlo io ho i video sul web che dimostrano il braccio quando era l'anno scorso due anni fa e tantissime persone lo sanno quelle che mi conoscono ve lo testimoniano anche perché ho perso il canale ragazzi ho perso un canale storico che me l'hanno cangelato i buffoni del deep state l'anno scorso avevo raggiunto 50.000 iscritti avevo 1500 video caricati realizzato il canale nel 2007 15 anni di storia qui su youtube poi i buffoni ci avevano cangelato ma non voglio parlare di questa cosa qui c'erano tanti video che testimoniavano la mia crescita non voglio parlare però ragazzi testimoniano anche le persone sotto in descrizione che commentano a raffica e sono tantissime e non sono profili falsi sono persone che mettono anche la faccia Isidoro Igor e tantissimi altri Lalli che ragazzi mi scrivono su instagram su telegram sono tantissimi altri adesso ragazzi andiamo avanti con questo pagliaccio qui come fare per iscriverti ovviamente troverai in questa pagina la modalità di iscrizione potrai usufruire del super prezzo e se ti iscrivi in questo momento andrai a beneficiare di tanti bonus che metto sempre a disposizione dei miei allievi a di chi mi dà fiducia quindi ora è il momento i tuoi polli e l'azione questa challenge è adatta sia a uomini che a donne come ti ho detto è adatta a soggetti più esperti ma anche soggetti meno esperti ecco se sei meno esperto potresti decidere di non eseguire ogni giorno un workout ma potresti lasciare un giorno di recupero tra un workout e l'altro in questo caso la challenge non ti durerà 30 giorni ti durerà 60 giorni ragazzi ma questa cosa questo è fuso questo questo è fuso se tu non sei esperto prima dice che tu sei uguale per tutti poi dice anzi se non sei esperto la puoi fare un giorno sì un giorno no però ti migliorerà nei 60 giorni avrai gli stessi risultati dopo questa ragazzi si potrebbe chiudere il video si potrebbe chiudere il video e cioè definitivamente è perché già si capisce che una scuola già fritta è un ignorante un ignorante no un ignorante no perché lui ragazzi è un furbacchione un furbacchione perché lui sa che sta vendendo fumo lui sa che sta vendendo fumo ma se ne sbatte le palle li prende li prende li prende perché a voi no li prende in giro li prende in giro va benissimo va benissimo anche per i trainer che vogliono imparare nuove tecniche per allenare i propri allievi troverai infatti 30 giorni 30 workout 30 tecniche differenti con cui sono andato a strutturare degli allenamenti per le braccia quindi è un percorso unico nel suo genere puoi cercare in tutto il mondo ma non troverai nulla del genere come ti ho detto è ovvio che non troverai nulla del genere ragazzi ma chi va ad allenare tutti i giorni le braccia andiamo avanti il mio ruolo è allenare le persone ispirare migliaia migliaia di appassionati all'allenamento ad allenarsi sempre meglio quindi con la challenge dedicata alle braccia scopriai un modo unico per andare a massacrarti ad allenarti a centrare grandi risultati quindi se sei deciso non aspettarti poi ride pure ride pure perché lui sa che è una cemenza ride pure e gli dice ma cazzo mi sto prendendo per il culo però alla fine lo devo fare perché alla fine ho guadagnato già i 200.000 euro con la challenge di prima adesso vado subito con gli altri 200.000 euro e così la challenge partirà ufficialmente nel momento in cui ti iscriverai ecco una volta che ti iscrivi considera che i video sono caricati e potrai guardarli quante volte vorrai quindi considera che l'accesso è a vita se ti iscrivi ora quindi tutta la vita allenare le braccia 365 poi magari farei la challenge 375 giorni l'anno allenare le braccia con la stessa modalità e ragazzi vedete voi uscite dalla scuola di Mileto i campioni di bodybuilding perché ragazzi dopo tre mesi minimo avranno il braccio da 40 dopo tre mesi 6 cm più a 46 a 50 la scuola di Mileto è una scuola che sfoderà dopo questa challenge campioni mondiali di bodybuilding ragazzi è pazzesca puoi farli una volta ma terminata la challenge non la vieta di recuperare due tre quattro mesi e ripeterla magari anche più avanti quindi è un investimento che fai su deve recuperare tre quattro mesi perché deve recuperare tre quattro mesi ragazzi avete visto cosa ha detto recuperare tre quattro mesi è ovvio perché in questi tre quattro mesi ragazzi quando finiscono questa challenge con i sfigati che andranno a farla avranno dolori permanenti per mesi nel braccio tendinite acute ragazzi dolori pazzeschi e qualche infortunio oppure qualche infortunio addirittura avranno anche il braccio non li recupererà più indolorimenti per settimane intere anche se staranno fermi a non allenare le braccia avranno i DOMS nel braccio per anche per tre quattro settimane io ragazzi l'ho fatta questa prova ad allenare le braccia tutti i giorni dopo la prima settimana ho iniziato già a vedere delle scosse elettriche qui nel branchiale quando facevo i bicipiti a martello e non è che li allenavo io pesantissimi tutti i giorni ho fatto super giù forse magari una cosa una cialtronata uguale a sto buffone ho provato ragazzi ho provato ho fatto una settimana ho detto vediamo proviamo il braccio se lo alleno tutto il giorno tutti i giorni che cosa fa in primis poi quando andavo a fare per esempio la panca con i tricipiti stanchi non la potevo fare bene avevo dei dolori la quale articolazione poi i dorsali stessi giustamente dovevo caricare tanto peso non lo potevo caricare più per esempio le trazioni alla sbarra con il mio corpo stesso non li potevo fare perché naturalmente quando fai le trazioni alla sbarra un po' implichi la forza del bicipite essendo stanco che l'avevo allenato per 4 giorni di fila avevo fatica e tantissimi dolori perché poi quando fai tu le trazioni devi mettere stile nel bicipite la forza massima devi coinvolgerlo con tanta forza perché pesa 90 kg vai a mettere 45 kg nel braccio ragazzi vedevo che dolori non mi potevo allenare bene con i dorsali con la panca oltre al fatto che poi mi stava già avvenendo una tendinite qui nel branchiaro dolori nel bicipite nei tricipiti non recuperavano più poi dopo una settimana ragazzi si può dire che il braccio poi sono stato fermo dopo la prima settimana non ho voluto continuare perché ho detto cap mi vado a a lesionare meno male che sono stato indelligente non ho continuato addirittura sono stato una settimana con il dolore al braccio ho perso una settimana non mi sono allenato più ho sbagliato ho perso due settimane ma ci sta perché io ragazzi sto provando sto facendo prove eccetera eccetera nell'arco degli anni ho fatto un sacco di prove e naturalmente vi sconsiglio di farla tutti i giorni sta challenge su te stesso sulla tua salute sulla tua costruzione muscolare quindi se vuoi allenarti con me se vuoi che io sia il tuo virtual coach in questa magnifica avventura questa sfida dedicata alle braccia ora è il momento di agire clicca sul pulsante che trovi qua sotto iscriviti accedi subito alla piattaforma segui le mie istruzioni che partiamo con la challenge dedicata alle super braccia ragazzi guardate che braccio che ha poi ha messo qua la cosa ma ragazzi guardate che braccio che ha ma guardate ragazzi guardate che braccio secco guardate guardate ragazzi che braccio secco ma guardate 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 che braccio secco ragazzi guardate guardate ragazzi guardate che braccio secco guardate guardate ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia guardate Che scherpezza Questa dove li metterla come foto di copertina E lui vuole Ragazzi guardate un po' Aspetta che tolgo la Il pupetto qua Guardate Cioè non ha neanche Ce l'ha piatto Guardate questa zona qui Piatto sia il tricipite che il bicipite Non ha il picco del bicipite Amici non ha il picco del bicipite Ragazzi Vi faccio vedere questo qui Non ha ragazzi la rotondità del braccio Guardate Qui si vede E ancora non sono super definiti Cioè ragazzi Non ha il picco Il braccio ce l'avrà sì E non 34 33 centimetri Un ragazzo Un ragazzo che entra nella palestra Ragazzi Dopo tre mesi Forse ci arriva Il braccio che ha Mileto Ragazzi super nervoso Super nervoso Per colpa di questo pagliaccio Che Io ragazzi sono qui per Cercare di Infogliare la gente Alla retta via Di non sbrecare i soldi Di non sbrecare il tempo Di non sbrecare la salute Perché Purtroppo Quando ci sono i soldi nel mezzo Anche persone Che sembrano buone Come Mileto Che lo vedete Buono Tutto Ongelino Io Voglio migliorare Le bruste braccia Poi quando ragazzi Vedono che incassare soldi Se ne fregano Di aiutarvi Se ne fregano Di aiutarvi L'unica cosa Che gliene frega È fare Più soldi possibili Più soldi possibili E Mileto Lo sta facendo Io non sono geloso Che Mileto sta guadagnando Attenzione Io spero che Mileto Diventi super multimilionario Si costruisca dieci palazzi Si compra dieci palestre A me Non me ne fotte Un cazzo Il problema è Che Che fanno soldi Si può dire Tra parentesi Prendendo per il culo la gente Perché Amici In primis In primis Andranno a finire Tutti all'ospedale Questi qui E poi Non avranno sicuramente I miglioramenti Anche perché Lui dovrebbe far mostrare Centinaia e centinaia Di video Di tutti coloro Che hanno avuto I miglioramenti Con il metodo Quello del pettorale Minimo Dovrebbero avere Pettorali così grandi Ragazzi Con il metodo suo Che dice lui Che 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 Il pettorale Tutti i giorni Ragazzi Ma Non è possibile Avere dei miglioramenti Anche Tecnicamente Sulla carta Allenando lo stesso muscolo Tutti i giorni Cioè Miglioramenti di volume E di massa Perché Perché Ci vogliono Per recuperare Le 48 ore E anche in più Anche più di 48 ore Dipende Il tipo di densità Che vai a allenare il muscolo Voglio chiudere il servizio Condividete dappertutto E spero che La gente Si svegli E purtroppo Lascia perdere Sti canali E se scopre Il mio canale Che ben venga Condividete Telesmunto E che se cresco io Ragazzi Metterò giustizia Nel fitness Italia Amici Arrivederci Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima